In molti mi avete chiesto come linkare i profili Instagram e Facebook insieme. Instagram e Facebook sono passati a questo sistema meta e quindi se prima era molto più semplice poterli linkare insieme, adesso c'è un procedimento diverso. Ecco come fare. La prima cosa che dobbiamo fare è entrare ovviamente su Facebook. Una volta entrati su Facebook, in basso cliccherete sulla vostra icona, sul vostro avatar e andate fino in fondo a trovare impostazioni e ci cliccate sopra. Andate fino in fondo e troverete in questo caso centro gestione account meta e troverete praticamente le parti degli account e profili che si devono collegare. Cliccateci sopra, in questo caso i miei sono già collegati ovviamente e avete la possibilità di linkare insieme Facebook e Instagram. I miei sono già collegati, vedete? Bene, abbiamo visto in questo reel come linkare Facebook a Instagram. Nel prossimo reel vedremo invece come linkare Instagram a Facebook. e